Non penso di fare un video a riguardo l'arbitraggio e le Olimpiadi in toto, queste saranno chiacchiere che voi poi ritroverete pubblicate su Playrens.itv A proposito, poi ho un discorso da fare anche sulle reaction in generale, perché ho visto qualche commento un po' così Perché gli estratti di live sono una cosa, parlarne in live è tutta un'altra cosa, siamo qui in tempo reale Gli estratti di live sono un condensato di ore o anche mezz'ora di live in cui si parla con voi, c'è un botta e risposta, ci siete voi che scrivete Invece poi gli estratti di live ricaricati su YouTube c'è pure un altro pubblico, una fruizione diversa Alcuni non lo capiscono subito che si tratta di estratti di live, non lo capisco, pensano che si Alcuni mi hanno scritto, ma adesso fai solo reaction, ma è il quarto canale amico mio Puoi anche non essere iscritto, però mi fa piacere se lo sei, ma è il quarto canale, sono estratti di live E' come dire che Midra fa solo Fallout, no? Eh, no, ci arriviamo, ci arriviamo Cos'è successo ragazzi? Che in buona sostanza Imane Calif sarebbe, a quanto pare, perché non ci possiamo fidare assolutamente più neanche di ciò che ci riporta la stampa Anzi, a maggior ragione non ci possiamo e non ci dobbiamo fidare di ciò che ci riporta la stampa Dobbiamo sempre noi scavare a fondo delle notizie, incrociare le notizie Prima di dare la nostra opinione sparata a mille Ma se dobbiamo sparare a mille, soprattutto sui soggetti interessati, allora dobbiamo informarci Perché se no rischiamo di fare brutte e bruttissime figure è un dovere giornalistico Ma prima ancora è un dovere umano, etico Deontologico sì, ma etico e morale prima ancora che deontologico Angela Carini si ritira dopo 45 secondi contro Imane Calif Fa malissimo, poi scoppia in lacrima La cosa fa malissimo, mi fa un po' ridere Mi fa ridere, si è fatto proprio male Grazie Matteo Procopio Non del fatto che si sia fatta male lei Mi fa ridere che abbia detto Madonna fa malissimo, è fortissima Interessualità è un termine ombrello Usato per descrivere quelle persone che hanno caratteri sessuali primari e o secondari Non definibili come esclusivamente maschili o femminili Che possono comprendere variazioni fisiche rispetto ai genitali Alle gonadi, ai marker genetici, agli ormoni, ai cromosomi e agli organi riproduttivi A quanto pare, in questo caso, era più relativa al discorso ormoni Ovvero il testosterone Cioè ne aveva livelli maggiori rispetto a quanto normalmente ne avrebbe una donna Ma comunque entro certi limiti perché l'hanno ammessa a queste Olimpiadi stavolta Quindi intanto, con una ricerca, ragazzi, che ci è costata sette secondi Ma anche di meno, in realtà è perché sono stato lento a scrivere Abbiamo subito sfatato il fatto che fosse transessuale, transgender, ok? Quindi già questo è una fake news Non è transgender Non è una donna trans È una donna intersex Che vuol dire che è dalla nascita a certe caratteristiche Però è una donna Come vogliamo definirla È una donna Non ha fatto sti grandissimi risultati Perché, per esempio, nelle scorse Olimpiadi le ha prese della grossa Quando si dice Eh, però sembra un uomo Ma che cazzo vuol dire sembra un uomo? Ma che vuol dire? Allora, ai campionati mondiali di pugilato di lettanti femminili 2018 Ha partecipato per la prima volta classificandosi al diciassettesimo posto Dopo essere stata eliminata al primo round Ha rappresentato l'Algeria ai campionati mondiali di pugilato di lettanti femminili 2019 Dove si è classificata al trentatreesimo posto Dopo essere stata eliminata al primo round Che lì fa rappresentato l'Algeria alle Olimpiadi estive di Tokyo 2020 nel 2021 Dove è stata sconfitta dall'irlandese Kelly Harrington Nei quarti di finale Quindi neanche in finale Io mi ricordavo in finale Quindi nei quarti di finale E allora cosa è successo? Che c'è stato un grande vociare prima Ma è quest'uomo, gli uomini non possono combattere con le donne Che sarebbe tutto un altro discorso Io posso anche essere d'accordo sul discorso uomini Anzi, sono d'accordo sul fatto che uomini e donne a livello muscolare siano diversi E che far competere in uno sport specialmente molto fisico e di contatto Come il pugilato Un uomo con una donna Non ce lo vedo come molto conveniente per le donne stesse Però dire quando non è un uomo E soprattutto non è neanche così temibile perché ha vinto la coppa del nonno Santo cielo Cioè io un attimino mi farei un esame di coscienza Abbiamo fatto vincere i pregiudizi E Angela Carini, col suo ritiro, ha fatto vincere i pregiudizi Perché posso anche crederci che lei si sia impegnata Però l'ho vista alla fine che diceva non è giusto Non è giusto Gridandolo Se dici non è giusto Allora che cosa non è giusto Angela? Che cosa non è giusto? Se poi nell'intervista dici No vabbè, è che io è che ho preso un pugno in faccia È che mi faceva male il naso Tu hai detto non è giusto Io non ti giudico perché tu hai detto non è giusto Perché capisco che anche tu sei stata vittima dei pregiudizi e della disinformazione Però hai fatto vincere i pregiudizi Prendevi le botte Se proprio le volevi prendere Gliele davi Provavi a dargliele E basta E perdevi casomai Ma anche perché Se la Carini avesse voluto mandare un messaggio politico Non si sarebbe presentata Emma Raiden così poi non la facevano partecipare alle prossime Olimpiadi I messaggi sono messaggi I principi sono principi E tu ti giochi una cosa Sacrifico una cosa Per i tuoi principi Non che ti presenti e poi dici non è giusto Però effettivamente dà botte forte questa O no Perché è il momento in cui tu dici non è giusto Non è giusto Dopo che hai preso quattro pugni Che dal mio punto di vista Oh Forti erano forti Ma insomma Non lo so Sarà che dal suo punto di vista erano più forti Ma non mi sono sembrate Sembrate ste sassate clamorose E poi non ha salutato l'avversario Inoltre Esatto quello che dice Ludwig A quanto pare esistono anche cure di doping Torno un attimo da voi Cure di doping permesse Non chiamiamole doping ma in questo caso di testosterone Per abbassare il testosterone E a quanto pare rispetto ai vecchi test Oggi ha anche abbassato il suo livello di testosterone Imane Calif E quindi per questo poteva Poteva competere Angela Carini vorrei capire Voleva lanciare un messaggio Non ha lanciato un messaggio secondo me Perché alla fine un messaggio Allora ha lanciato più involontariamente un messaggio La Benedetta Pilato E adesso ci arriviamo Ma la Carini ha semplicemente splittato il messaggio Cioè Quelli che l'hanno eletta eroina Della situazione Della patria Dello sport Giusto perché è femminile È giusto così Uomini e donne non possono combattere Ragazzi ho trovato una pagina In cui c'era un link In cui c'era un sacco di gente Che scriveva proprio cose schifose Su Imane Calif Calif Come se alla fine Va bene Cioè Qualcuno l'ame Per questo ti dicevo Marco Vez Qualcuno l'ha ammessa Sì Da quel punto in poi Non è più colpa della Calif Se è alle Olimpiadi Non è più colpa sua Qualora fosse stata mai una colpa Ok Qualcuno l'ha ammessa Sì Lei quindi era Legittimata ad essere lì Sì Da lì in poi Perché offendere Imane Calif Prendetevela col cio No ragazzi Ho letto lo schifo su Imane Calif Lo schifo Da chi poi io per curiosità Sono andato a curiosare Nella propria bacheca Aveva Gesù è il Salvatore Gesù è il Signore Viva la Chiesa Viva Dio Viva la Madonna La tolleranza che insegna La religione cristiana L'abbiamo buttata alle ortiche No? Quindi perché insistere ancora Su sta cosa? No però è un uomo No ma guarda che non è un uomo Perché è intersex Non mi interessa Ma sembra un uomo Non è una risposta Oh bravo Liax Uzi L'unica cosa Con cui Di cui Scientemente Si può discutere E essendo intersex Ha vantaggi rispetto a una donna A livello di forza muscolare Bravo Bravo ma anche Wow abbiamo scoperto Cioè abbiamo fatto ridere i cazzi È normale che l'unica domanda Dovrebbe essere questa No è un uomo di merda No è una trans A cui è un trans Perché non gli frega un cazzo No non è giusto Gli uomini non devono combattere gli uomini Appena glielo hai fatto notare Ma sembra un uomo Questa non è discussione ragazzi Questa non è discussione Se tu vuoi difendere il discorso Che gli sport sono categorizzati E gli sport femminili Alcuni sport femminili A livello di forza Velocità Scatto muscolare Eccetera Non sono paragonabili Alla controparte maschile Proprio per difendere questa posizione Non ti devi poi perdere in discorsi del genere Ma sembra un uomo Capite? Perché se no Vai contro il tuo stesso principio Che difendi Il discorso di non far gareggiare Le donne con gli uomini E allora mi fai capire Che tu non vuoi far gareggiare Le donne con gli uomini E quindi sostanzialmente Le trans Le donne trans Con le donne Nate donne Perché? Per una cosa politica Non perché veramente Ti interessi lo sport Non perché veramente Ti interessi L'equilibrio Tra i concorrenti Nello sport Non è questo che ti interessa È che tu vuoi dire Trans non è giusto Che siano trans Questo vuoi dire E basta E basta Vuoi dire questo? E basta Quando succedono queste cose È giusto modificare il regolamento? Eh Come lo modifichi? Quante volte capiterà? Boh È un precedente? Sì Ne abbiamo approfittato Per fare discussioni costruttive? No Ne abbiamo approfittato Per buttarle in cacciara Pseudopolitica E politicizzata? Sì Quindi che cazzo abbiamo concluso Regà Che cazzo abbiamo concluso? Dagli all'orco Al mostro All'uomo Ma che cazza te Che cazza te Senza entrare nel discorso Ikin Te ne ho parlato prima Accennando apposta E non addentrandomi in argomento Senza entrare nel discorso Di cosa voglia dire Essere donna in Algeria Perché In primis non lo so E non lo posso sapere Ma non ci addentriamo In questo discorso Perché è un discorso Che esula dal nostro contesto Che è Di respiro internazionale Olimpionico Ok Fa malissimo Con quale faccia glielo dice Ragazzi È come se dicesse Qui stiamo facendo un processo All'intenzione Ma è un pur parlet Però è come se glielo dicesse Oh avevano ragione Questa qua è proprio Eh Questo vorrei capire Cosa non è giusto? Che t'ha dato il pugno? Cosa non è giusto? Ragazzi A me sembra chiaro Che si riferisca A tutta la vicenda Perché l'ha vissuta male Secondo me E poi Non lo so ragazzi Non lo so Manteniamo Manteniamo sempre Il beneficio del dubbio Ci mancherebbe altro Però Boh La sensazione È quella che Si sia fatta condizionare Però vabbè Se non si è fatta condizionare Per carità Perché questa è una mia sensazione Non sono nessuno Nell'ambito del pugilato Non cazzo di nessuno Se non si è fatta condizionare Però ha sbagliato Quanto meno a non salutare Poi dopo Infatti Questo l'ha ammessa Ha Ammesso la sua colpa Ha detto che ha sbagliato Punto Ancora una volta Se ne è approfittato Per fare disinformazione E per fare politica Per fare politica Grande la nostra Angela Che non si è piegata Ma non si è piegata a che? Comunque oggi Oggi non stiamo parlando Ripeto Di Angela Carini O di Manek Elif Perché la situazione L'abbiamo capito Ma dell'incredibile Strumentalizzazione Della questione Incredibile Incredibile Strumentalizzazione Della questione Qua avremmo dovuto Tacere tutti Ora noi ne stiamo parlando E il mio parere vale Esattamente quanto il vostro Perché Di pugilato Ho le competenze Anzi Probabilmente Tra di voi C'è qualcuno Che se ne intende Di più Di pugilato Di me Sì L'ha sempre seguito Il pugilato Molto Senza capirne un cazzo Però Qui stiamo parlando Di un discorso Di strumentalizzazione Dell'informazione E questo già è un po' più Il mio ambito Nel senso La comunicazione Quindi alle persone A quelli che si sono fatti Manifesto Del Uomo contro donna Non si può fare Che schifo A che cosa siamo arrivati Questa è la società di oggi Si sono fatti manifesto Si sono presi Una questione Che non c'entra Né con l'una Né con l'altra cosa Era una questione Su cui tutti Avrebbero dovuto tacere Ripeto Poi non si tace Perché se ne può parlare Ma se ne deve parlare Col beneficio del dubbio Quanto meno Non Con degli assolutismi Dando per scontato Che la nostra versione Sia quella vera Perché Per me è uomo Perché noi possiamo dire Sì però Minchia Ha delle caratteristiche Da uomo Possiamo Possiamo Bravo Mike Endez Possiamo chiederci Perché Mondiali Qui è stata squalificata Non è stata ammessa Insomma E qui invece è stata ammessa Questo possiamo chiederci E come ma Ma anche lì Che cazzo Cioè ragazzi Boh Evidentemente ci sono Dei livelli di testosterone Che se scendono Entro un certo livello Possono fare Ammettere L'atleta All'interno della categoria Delle donne Possiamo discutere Sul fatto che ci potrebbero Volere tre categorie Cioè una Per le atlete Transgender Per gli atleti Transgender E O Intersex Di queste cose Possiamo discutere Ma non c'è una risposta Però per adesso Possiamo discutere E quello dicevamo Doppia 88 Cioè perché Mondiali non è stata Ammessa invece Perché i livelli Di testosterone Quindi Possiamo discutere Sul basarsi o meno Sui livelli di testosterone Ragazzi Potevamo discutere Potevamo Quando dico potevamo Intendo la stampa Internazionale Perché poi internazionale Ragazzi anche in Francia C'è stato un bordello Perché ho visto Qualche rotocalco Francese però Si è discusso di tutto Tranne che di queste cose Si è discusso del fatto Che è un uomo Che cazzo vuol dire Un uomo Ma che vuol dire Ma adesso esce la minchia Che non ce l'ha Tra l'altro Cioè Si è discusso Di ste cose piccole Di queste cose Poteva essere Un argomento Di discussione Su un tema importante Come gli atleti Transgender Come gli atleti Intersex Evidentemente No Si è banalizzato La cosa E si è ridotto A una lotta politica Tra destra e sinistra Quelli che ne pensano Una cosa È giusto includere tutti Oppure no Vaffanculo Gli uomini Non devono gareggiare Con le donne E basta ragazzi Finita qui La mia Scorta di opinioni Sulla questione Al solito Io Tendo ad essere Abbastanza equilibrato Però a modo mio Mi sono schierato Contro chi ha Incolpato Tutto e tutti Perché secondo me Non era proprio il caso Di farlo Non era proprio il caso